Ciao a tutti, voglio raccontarvi la nuova funzione che abbiamo sviluppato sulla nostra piattaforma Rousseau e che si chiama Call to Action. Call to Action vuole realizzare un'idea semplice ma ambiziosa, dare la possibilità a tutti i cittadini di partecipare, socializzare e collaborare su progetti condivisi, costruendo grazie al potere della rete un ponte che faccia incontrare chi vuole mettersi al servizio della comunità con chi invece vuole fare appello alle risorse della comunità stessa. Partendo dai meetup nel 2005, luoghi dove è cominciata questa grande sperimentazione, siamo arrivati a sviluppare un'applicazione nostra, Call to Action, grazie alla quale ogni iscritto a Rousseau può proporre una chiamata all'azione, una Call to Action indirizzata al proprio territorio. Cliccando su Crea Iniziativa è possibile infatti dare vita ad un'azione di cittadinanza attiva in cui si può descrivere la proposta dell'evento che si vuole realizzare sul proprio territorio, il luogo, l'ora, il numero di persone coinvolte e gli strumenti che sono necessari per svolgere tale attività. Ogni evento progetto diviene attivo con la partecipazione di un numero minimo di persone e consente la partecipazione di tutti coloro che vogliono contribuire mettendo a disposizione della comunità le proprie conoscenze, competenze o risorse. Le categorie iniziative previste sono molteplici, la mobilitazione che raccoglie quelle azioni finalizzate a prendersi cura nel proprio territorio, come decidere di incontrarsi per pulire un parco o una spiaggia, la collaborazione per promuovere iniziative di aiuto per chi è in difficoltà, l'informazione della cittadinanza per lanciare ad esempio iniziative di volantinaggio o di sensibilizzazione su temi specifici. Si possono anche condividere competenze o conoscenze, per esempio professionisti o esperti che vogliono spiegare come si legge un bilancio comunale o un piano urbanistico possono farlo con un'attività di formazione organizzate dagli iscritti. Si possono prevedere giornate di incontri su questioni legate al territorio, dalla mobilità cittadina alla qualità dell'area con la categoria argomentazione e poi ancora segnalazione per evidenzare problemi sul territorio, interazione per scambiare o barattare libri, giocattoli o materiali riciclabili e socializzazione per mettere insieme risorse e servizi. Call to Action si pone un obiettivo fuori dall'ordinario, immaginare grazie alla collaborazione digitale della rete nuovi modelli di condivisione che eliminano così le intermediazioni, riescono a promuovere la filiera corta, creano forme di cooperazione su temi concreti basati sulla fiducia. Già Roberto Casareggio scriveva il web non sostituisce il luogo fisico ma lo integra e lo completa e Call to Action è proprio questo, uno strumento di collaborazione digitale per agire sul proprio territorio e diventare così tutti sindaco del proprio metro quadrato. Grazie a tutti e a presto!